Raga, buon pomeriggio a tutti, vi giuro mi viene da piangere, è un mix fra risate e pianti isterici, diciamo così, neanche iniziate il campionato, già hanno iniziato a fare polemiche su tutto, la partita Genoa-Inter non è stata solo una partita del 2-2, ha ceffato dal Genoa negli ultimi praticamente due minuti, nemmeno. E' stata anche la cazziata a Frattesi per l'esultanza che ha fatto da parte di TuttoSport, ecco qui vi faccio vedere un attimino TuttoSport quello che ha scritto, esatto, perché ovviamente Massimiliano Allegri si può permettere ovviamente di chiamatemi Cramina, dov'è Cramina, Cramina? Oh non mi ricordo, infatti non mi ricordo chi cavolo cercava, di sfogliarsi nudo come se niente fosse e tutto passa in secondo piano, ovviamente Frattesi fa un'esultanza un po' più sulle righe, piena di adrenalina perché per chi non conoscesse l'adrenalina è una cosa molto bella che ti fa sentire anche vivo, che ti dà passione, che ti dà garra, soprattutto su un campo così importante come quello della Serie A di calcio, ragazzi dove girano milioni di euro e dove comunque c'è un'importanza pazzesca a livello di aspettative da parte di tutti. e quindi se Frattesi esulta dando qualche calcetto alla vetrata, diciamo che poi vetrata e fatta in plexica sicuramente sarà fatta con un materiale duro, tosto, che non è che prendi e la spacchi, tutto allegro e felice e contento, pieno di garra e condannato da un giornale nazionale come TuttoSport, come vi ho fatto vedere prima, e quindi c'è anche quest'altra polemica, poi altri tifosi faziosi che si permettono di parlare, di dire anche questa volta l'aiutino avete fatto un gol in fuorigioco, ragazzi non abbiamo fatto un gol in fuorigioco, perché il VAR ha decretato che Tiram non fosse in fuorigioco, cioè inventarsi anche l'inventabile, cioè dai, rendiamo tutto molto ridicolo, cioè offendete veramente l'intelligenza di chi è intelligente facendo questi discorsi, cerchiamo di essere un po' più obiettivi tutti, ragazzi, allora sicuramente per esempio la Gazzetta dello Sport, altro giro, altra cosa che mi ha fatto ridere, ma mi ha fatto ridere a crepapelle, cioè mi metti un titolo di questo tipo qui, questo titolo, l'Inter domina una partita in lungo e in largo a Genova, a Genova, il Genova fa due gol grazie a due errori abbastanza grossolani dell'Inter, se no non è mai stata pericolosa, Inter che ha dominato con possesso palla con gioco, Inter che ha giocato al calcio, Inter che ha giocato al calcio, perché bisogna sottolinearlo, perché dopo le partite che ho visto io di campionato, che per carità sono le prime giornate di campionato, sono le prime battute, le squadre sicuramente, diciamo le cosiddette big, fanno una preparazione un po' più tosta, hanno tutti i giocatori che vanno nelle nazionali e quindi fanno più fatica rispetto alle piccole squadre, all'inizio sì, tutto vero, tutto a posto, ma l'Inter ragazzi ha un'impostazione di gioco che nessuna ha, alla prima giornata di campionato, l'Inter gioca a pallone, io l'unica partita che ho visto decente di questi due giorni, sabato e domenica, è stata Inter-Genova, Genova-Inter scusate, e Cagliari-Roma, decenti, il resto, stendiamo un velo pitoso, stendiamo un velo pitoso, non ho visto la Lazio contro, aspetta, contro chi ha giocato la Lazio? Il Venezia, ma penso il Venezia, se non sbaglio, ma ragazzi il Napoli un disastro totale, ma la partita in generale è un disastro totale, perché non è per massacrare il Napoli, perché sapete tutti che io comunque ho rispetto del Napoli e dei napoletani, quindi lo sapete tutti anche perché io ho origini napoletane dalla parte di mio nonno paterno, il mio cognome è napoletano, quindi non mi permetterei mai a schifare o odiare una squadra, insomma che un po' mi appartiene, appartiene alla mia famiglia, ecco perché mio nonno era tifoso del Napoli, mio nonno paterno. Ma bisogna essere obiettivi, bisogna essere obiettivi. E poi la casetta dello sport mi pubblica un articolo, cioè mi pubblica la prima pagina con Chiuam c'è l'Interno, una cosa imbarazzante, una cosa imbarazzante, io direi una cosa veramente inguardabile, un titolo inguardabile, e subito sotto mi scrive grande cuore Milan. Dopo che è stato praticamente subissato dal Torino per tutto il primo tempo, mette la testa fuori per il secondo tempo, giusto perché Morata ci mette una punta lì e un gran culo che non finisce mai, anche se ti trovi lì al posto giusto, al momento giusto è tanto di cappello d'Alvaro Morata che si trova sempre lì per far gol, per carità. Però l'Inter deve fare 870 tiri in porta prima di fare due gol. E qui mi vengono a parlare, mi vengono a dire a grande cuore Milan, l'Inter non c'è, il Chiuam c'è, l'Inter no. Dai, e dai. Cioè cominciamo così veramente raga, cominciamo così veramente, mi fate passare la voglia pure di commentare le partite. Oppure tanta gente che viene e dice ma che le commenti a fare le partite, perché non pensi alla tua squadra? Io ho sempre commentato le partite su Facebook soprattutto, sulla mia pagina Facebook che si chiama Lucrezia Capone Internazionale Milano come questa di YouTube, ho sempre commentato le partite che sono riuscita a vedere. È la mia passione. È il mio lavoro. Cioè vi svelo un segreto, è il mio lavoro. Quindi evitate di dirmi sempre pensi alla tua squadra, commentiamo un campionato. Potete essere d'accordo con me, non potete essere d'accordo con me, ok, ma ho il diritto di commentare quello che cavolo voglio. Detto questo, ragazzi, ci sarebbero tante cose da dire, ma le diciamo poi piano piano in un altro video, perché questo, diciamo, è un video di una sorta di lamentela nei confronti dei giornali che veramente iniziano già dalla prima giornata a farmi cadere le braccia a terra e non è neanche corretto e giusto per dei professionisti che si fanno un mazzo così lavorano e si danno da fare. Ragazzi, Simone Inzaghi, come ha detto la moglie, non hanno dormito la notte che hanno pareggiato contro il Genoa a Genova. Ragazzi, vuole un po' più di rispetto, un po' più di rispetto per Simone Inzaghi e per i suoi ragazzi che sono campioni di inter, Inter, le due stelle si sono spente, ma vaffan... Dai, e dai, perché poi me lo fate proprio scappare sto vaffa, me lo fate scappare, ma che caspita si sono spente che ha vinto ieri e che sono tornati l'altro ieri i giocatori dalle competizioni europee e mondiali delle cavolo di nazionali e vi permettete di dire alla prima giornata che si sa che la preparazione dell'Inter è molto più pesante rispetto a quella del Genoa mi permettete di dire che l'Inter si sono spente le due stelle ma spegnete il cervello un attimo voi e riattivatelo magari in un momento in cui siete più lucidi e meno faziosi che ci siamo sorrotti le scatole di sentire e vedere queste cose e leggere queste cose e basta e qualcuno che intervenga da sta cavolo di società del cavolo va perché non ne possiamo più e io parlo per tutti i tifosi dell'Inter non ne possiamo più basta cioè dà fastidio siamo stanchi dalla prima giornata e alla quarta alla quinta che caspita fanno e che cà non sono una giornalista sono un'appassionata e si vede pure condividete il video porca di quella miseria non sono un'appassionata non sono un'appassionata